al via la tredicesima edizione tale quale show in apertura di puntata carlo conti ha ricordato giorgio napolitano ex presidente della repubblica scomparso nelle scorse ore dopodiché ha presentato la giuria formata da loretta goggi cristiano malgioglio giorgio panariello e valentina barbieri nei panni di chiara ferragni quindi sono iniziate le varie performance alla fine della prima puntata questa la classifica costruita sul punteggio dato dai giudici sulle preferenze sociale sui cinque punti che i vari concorrenti si assegnano gaudiano ha cantato non me lo so spiegare di tiziano ferro 5 punti a ilaria mongiovì lorenzo licitra ha cantato due vite di marco mengoni 5 punti a gaudiano ilaria mongiovì ha cantato come saprei di giorgia 5 punti a licitra jasmine rotolo i will survive gloria gainor 5 punti a giosquillo giosquillo ha cantato into the groove di madonna 5 punti a jasmine rotolo ginevra lamborghini ha cantato mon amour di annalisa 5 punti a licitra alex belli ha cantato sex bomb di tom jones 5 punti a maria teresa ruta pamela prati ha cantato non succederà più di claudia mori 5 punti a giosquillo maria teresa ruta ha cantato buonasera buonasera di sylvie vartan 5 punti ad alex belli scialpi ha cantato una lacrima sul viso di bobby solo 5 punti a gaudiano gabriele cirilli e francesco paul antoni hanno cantato disco paradise di fedez articolo 31 annalisa 5 punti a gaudiano sono tornati in studio anche i ripetenti gabriele cirilli e francesco paul antoni che hanno intonato disco paradise risate in studio naturalmente